La musica prima deve emozionare e poi deve arrivare l'intelletto ed è penso con questo spirito che io sono venuta spero che le canzoni scelte da Carlo possano emozionarvi a me hanno emozionato sinceramente, non le avevo sentite fino ad iniziare a fare le prove e sono rimasta colpita parecchio Sarremo è il tempio della musica, noi nasciamo con la musica, la musica è vita Un salutissimo al Corriere Salentino e stati più buoni, a presto